Roberto Chiavari, ha presentato anche tutto il settore giovanile con uno obiettivo, quello di far divertire i ragazzi. Sì, l'ha detto a chiare lettere il Presidente, sposa in pieno il mio pensiero. L'obiettivo di questo settore giovanile è quello di migliorare i ragazzi nel gioco che loro preferiscono. Quindi dobbiamo essere bravi a fargli piacere il calcio, a fargli innamorare di questo sport meraviglioso e aver fatto una squadra di tecnici con un'età mediamente giovane è proprio legata anche a questo obiettivo. Tutti i tecnici hanno tesseramento federale, quindi hanno fatto degli studi e questo testimonia la buona volontà da parte della società e tra virgolette gli interessi che sono della società stessa. Quindi quelli di migliorare i giovani cercando di farli divertire con il calcio. Tecnici nuovi? Sì, ci sono diversi tecnici nuovi, non li elenco tutti per non fare figuracce perché potrai dimenticarne qualcuno. Abbiamo cercato, come dicevo prima, di inserire gente giovane con tanta voglia di stare in mezzo al campo da calcio con i bambini. Visto che fortunatamente il campo da calcio ce lo sta facendo nuovo il Presidente e come dicevamo poco fa durante la presentazione non è cosa scontata in questo momento storico. Quindi avere degli impianti nuovi che tra virgolette fanno mettere anche la voglia ai ragazzi stessi di venire al campo è importante perché oltre all'aspetto tecnico è importante avere strutture che siano all'altezza per fare un discorso di qualità. Quindi l'invito a tutti i ragazzi del territorio, dell'entroterra di venire a giocare a Materica perché troveranno sicuramente una società pronta per farli divertire in maniera professionale.